Avete parlato degli uvi? L'amministrazione comunale, se ho letto ben i programmi di interazione della faccia, di rinventare il ciclo dei rifiuti della città in conto della sostenibilità dell'economia circolare, che è esattamente quello che io credo Roma può essere risolto. Quindi anche si teme più delicati da quello fiducioso che insieme rassorteremo il problema della città.